musica 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 benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua sugli SGD MC Gamer e ora andremo a spaccare un po' i culetti alla gente si spera e si robe 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 buone scappiamo perchè non abbiamo una spada e si sto programmando i video si sto già iniziando robe di merda e possiamo già metterci robe e si quindi ho già un video ho fatto due video oggi sono completamente pazzo questo è il secondo che faccio bene un video lo vedete domani questo video lo vedete dopo quel video quindi si ok andiamo giù qua una spada ci stava però e siamo un po' fottuti senza spada quindi quindi cazzo mi farebbe comodo anche un ascia in legno l'ho detto questa l'avevo già vista e anche un ascia in legno mi farebbe comodo però non la non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho e qua e roba da mangiare utili però voglio una cazzo di oh perfetto ora dobbiamo trovare robe ancora più forti diventare sempre più forti uccidere persone più deboli eh si anche quelle forti dai ci proviamo tutti i tipi uuuuuh buono 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 tutto piglia tutto e anche una briciole come di spada in pietra ok siamo messi abbastanza bene stanno volendo persone su persone e si facciamo una cosa facciamo andiamo di la ok un'altra spada in pietra prendiamo frecce alcune torte c'era una torta ok ho paura da dietro si eh andiamo avanti eh questo fuoco ok eh ok saliamo qua non so cosa dire spero che qui ah devo dirvi una cosa importante ancora che mi ero scordato nello scorso video di dirvi che c'ho un altro video programmato già da un po' da un po' tipo una settimana barra due una settimana barra due e cosa c'è non c'è un cazzo e si è su pokemon con negronando maiser nazerlo però però niente si è un po' vecchiotto però un po' vecchiotto una settimana barra due e vabbè solo per dirvi questo che c'è non dico cose aggiornate perché perché ecco perché vecchio abbassare non è recente però ora dobbiamo andare giù andare al centro c'è qualcuno non so siamo in sei senza fare niente però devo fare un video quindi cioè devo fare un video però volevo uccidere qualcuno aia oh my god posso fare la spana inferno no non c'è uno ah si ce l'ho lo stick ce l'ho in mano e si andare al centro rischieremo però possiamo provarci non c'è nessuno serio? 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 molto 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 fatto via scappa eh fatto questa la possiamo mettere anche via poi e si ok c'è la spada di ferro gg spada in legno bene e non so dove andare andiamo di qua non so che ha fatto e si andiamo di qua speriamo di vincerla oh mio dio siamo già quattro no però voglio guardare le persone dai ho luce di luce vorrei uccidere un altro a deathmatch se c'è ah ah interessante siccome non gioco a questa mappa perchè non è che mi piace tanto questa è breeze island 2 c'era scritta 2 c'era scritta 2 e non so che cosa sia diverso da breeze island però vabbè eh si poi c'ho una texture che ho già da un po' però nello scorso video non l'ho fatta vedere perchè non lo so non l'avo levato qua dovrebbe esserci uno chest ah anzi 2 cazzo di buono ehm siamo qua qua c'è una cascata però aspettiamo prima di salire qua ci sarà già stato qualcuno eh per forza però ho lasciato del cibo del cibo buono infatti si vede da questa armatura quindi o andiamo al centro del deathmatch o scatta 3 o 2 perchè qua non me lo ricordo non mi ricordo se scatta 2 o 3 però però siamo in 4 quindi che facciamo vediamo dell'acqua c'era la scelta eccola qua frecce buono ho 20 frecce ok ah bellissimo eh se è gheppolato se è gheppolato infame per te solo il salame non voglio sprecare le mie frecce quindi ecco perchè non lo freccio eh volevi eh volevi ma io voglio la tua armatura voglio la tua cazzo di armatura eccola eccola queste cose te le puoi anche tenere cazzo sta arrivando un tizio fammi mangiare bene un po' di pvp qui aia no cazzo no questo qua è bravo questo qua è bravissimo cazzo no mi tira una frecce alla fine raga meno male mi sta mancando clamorosamente però se mi fa gheppolare se mi fa gheppolare eh no sto laggando anche eh vabbè eh son morto raga due insieme così era difficile poi uno bravo come lui è ancora più difficile però se sarà dentro c'era anche l'altro che mi aiutava non so perché sono con lui però mi aiutava e forse potevo vincere però va bene va bene lo stesso bravo bravo e mi è piaciuta questa qui mi è piaciuta tanto veramente tanto quindi ragazzi questo video finisce qua è abbastanza corto però per avere video tanti video devo fare un po' cioè meno minuti del solito però spero che vi sia piaciuto lo stesso aveva cioè eravamo messi benissimo però non ce l'abbiamo fatta lo stesso e vabbè questo video finisce qua ragazzi spero che vi sia piaciuto pagine in descrizione raga ricordatevi il gruppo telegram e noi ci vediamo con un prossimo video bye bye ciao 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 ciao